Eccolo qua che ci saluta, pochi secondi da concedere il microfono al nostro Daniele Abelframe, pilotare una macchina che è stata pilotata. I tried so hard and go so far, but in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter I tried so hard and go so far And in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter I tried so hard and go so hard Oh, I know So, I love you I'm watching you I've tried so hard and gone so far Vediamo che il volo rovescio Con le accelerazioni negative Vuol dire che mentre vanno nella testa e piedi Vanno nella testa Vediamo che il volo rovescio Vediamo che il volo rovescio Sentiamo il fluscio dei filetti fluidi Sulle superfici dell'aliante E il sospiro dell'aliante Vediamo che il volo rovescio dei filetti Vediamo che il volo rovescio dei filetti 30 secondi per te 30 secondi per cortesia Luca 30 secondi più centromassa Grazie